Avranno 45 giorni di tempo in più le imprese agricole per presentare la documentazione relativa alla cantierabilità necessaria per accedere agli aiuti contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e per l'allevamento. Dall'assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento regionale dell'agricoltura, arriva l'avviso pubblico per annunciare la proroga a seguito della richiesta della Federazione dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali. Un provvedimento richiesto poiché i procedimenti istruttori sono stati avviati in ritardo ed in coincidenza con il periodo delle ferie estive, si legge, le quali hanno rallentato l'attività degli enti preposti al rilascio dei permessi e o autorizzazioni del territorio siciliano e conseguentemente l'emissione dei suddetti provvedimenti mettendo a rischio la finanziabilità dei progetti. La decisione di prorogare i termini dei 90 giorni, aggiungendone altri 45, è stata presa anche in considerazione della grave emergenza congiunturale causata dalla pandemia da Covid-19, si precisa ancora. Peraltro ancora in atto che ha determinato ritardi e disfunzioni nell'espletamento delle attività degli uffici pubblici, considerata altresì la crisi economica derivante dall'aumento dei costi delle materie prime, al fine di garantire l'utilizzo delle risorse segnate alla realizzazione dei cosiddetti laghetti collinari. E' tenuto conto altresì, si aggiunge, delle misure sulla maggiore flessibilità introdotte dall'UE in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria alla luce della straordinarietà degli eventi verificatisi. Si allungano dunque i tempi a disposizione per le 759 imprese ammesse ai contributi secondo la gradatoria approvata a dicembre 2021, per inviare la documentazione da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa. Le ditte interessate devono presentare, infine, si precisa, richiesta di proroga all'Ispettorato dell'Agricoltura competente, debitamente motivata, allegando copia delle richieste inerenti e la cantierabilità agli enti preposti.